E ora la vita è con questo slogan che prenderà avvio il mese blu con un calendario ricco di iniziative, non solo infatti la giornata mondiale del 2 aprile, ma tanti momenti per accrescere la consapevolezza sull'autismo. È significativo il titolo di quest'anno, ora la vita, quindi non è soltanto un modo per raccontare una difficoltà, ma è un modo per raccontare come questa difficoltà può assolutamente coniugarsi con la vita quotidiana di ognuno di noi. Un mese azzurro, ma fatto di tanti colori, che vede l'amministrazione a fianco dell'associazione Arezzo Autismo. La nostra associazione ha deciso, assieme a tante associazioni, di cercare di fare qualcosa in più, di uscire, come diciamo da sempre, dai convegni, dai congressi, dalle riflessioni che si fanno tutto l'anno, ma riuscire invece a portare i temi della neurodiversità dei nostri figli fuori, quindi sport, teatro, musica, divertimento, cucina, vita vera, insomma, tant'è che lo slogan che accompagna tutta la nostra campagna è «E ora la vita». Sappiamo cos'è l'autismo, sappiamo cos'è la neurodiversità, si studia dagli anni 40 negli Stati Uniti, si sanno quali sono le terapie da fare, quali sono gli interventi da fare, ecco, ora, quindi chi deve fare gli interventi li faccia, noi vogliamo occuparci invece di far conoscere i nostri figli e le loro qualità, le loro potenzialità a tutto il resto della società e della città e di dove andremo a operare. Non mancherà infine anche un appuntamento con il Buon Cibo, sabato 6 aprile alle 20 all'Hotel Planet, con una cena di beneficenza. L'idea era nata per fare qualcosa durante la cena per anche attrarre un po' più gli ospiti, per far prenotare un pochino di più la gente, però alla fine è diventato un gioco, quindi saranno i ragazzi stessi che prepareranno il dolce finale, quindi con il mio aiuto, diciamo così, non loro che aiuteranno me, ma io che aiuterò loro, riusciremo a fare una torta per tutte le persone che ci saranno, e credo che saranno tante, quindi iniziate a prenotare velocemente la cena. Faremo sì di prepararla la sera prima, faremo anche delle riprese per far vedere che i ragazzi sono effettivamente in grado di fare tutte queste attività anche in modo autonomo, dopodiché il giorno dopo la presenteremo tutti insieme e mi aiuteranno anche a servirlo a tutte le persone che saranno lì.